Cosa è successo a Gabriel Garco a Ballando con le stelle? L'attore al momento si trova in una clinica a Roma Nord. Gabriel Garco potrebbe dover rinunciare a Ballando con le stelle. Il motivo è stato svelato da Millie Carlucci. L'attore si è infortunato durante le prove e al momento si trova a Villa Stewart, a Roma, per accertamenti. Non è ancora chiaro cosa succederà prossimamente e se dovrà abbandonare il programma anticipatamente. Leggi anche, tale e quale show, Alessandra Mussolini non imita Sofia Loren, chi imiterà venerdì 28 ottobre? Anticipazioni Gabriel Garco infortunato a Ballando con le stelle Gabriel Garco si è infortunato durante gli allenamenti per Ballando con le stelle. Non è esattamente chiaro cosa gli sia successo, ma Millie Carlucci ha parlato di un problema al braccio che è risultato da subito importante. Non sappiamo se l'attore sarà presente nello studio della trasmissione il prossimo sabato e attualmente tutti sono in attesa di aggiornamenti da parte della clinica in cui è ricoverato. Il video Millie Carlucci ha voluto chiarire cosa sia successo a Gabriel durante le prove di Ballando con le stelle, così, pubblicando un video sui social, ha fatto sapere quanto segue, dopo la notizia, comunque, nemmeno Giada Lini la maestra di ballo che accompagna Garco nel percorso nella trasmissione ha voluto dire qualcosa su quanto successo. La partecipazione di entrambi, al momento, rimane a rischio. Cosa succederà? Seguici su Instagram cliccando qui.